Per il gol intanto ti ci provi spesso da lontano finalmente se stavo premiato. Raccontaci un po' di questo gol. Ma è stato un bel gol, a parte che il difensore l'ha deviata e è andata dentro. Diciamo che quando mi capita di girarmi e mi lasciano spazio mi tirare, cerco di calciare sempre e è andata bene. Sì, loro erano in dieci, quindi già dal ventesimo erano tutti chiusi dietro, quindi per noi non era facile. Però per fortuna è arrivato questo episodio che è andata bene, è andata dentro e ci siamo su qualcuno. Si concentrava di più, insomma, se facessi una seguita punta a un certo punto. Sì, il primo tempo abbiamo fatto un quarto tour a 20 minuti, sono da sinistra. Il primo tempo siamo ritornati, non siamo partiti, mi sono messo la trequartista, cercavo di aiutare Marco, che lui veniva incontro e attaccava lo spazio. Diciamo, per nulla che sto facendo io, devo cercare di allungare le difese e di attaccare lo spazio. Senti, visto in cui l'hai fatto, per cui dove resta? Guarda, all'inizio, come avete visto, non giocava quasi mai, cioè giocava un luogo, quindi è vero come mi ha detto in vista chi merita il gioco, perché secondo me, se in queste partite sto, diciamo, iniziando dall'inizio, secondo me perché me lo sono meritato, poi magari passano per i quattro partite non gioco più, perché non merito più di giocare, quindi veramente è chi merita il gioco, però noi lavoriamo sempre al massimo, soprattutto io che cerca sempre di dare una mano alla squadra, e niente, questo. Adesso è più dura di prima, perché comunque devi cercare di mantenere, diciamo, questa maglia, però se non dovessi partire, trovare la prossima partita, non è che faccio quello che ho fatto all'inizio, cerco sempre di dare il massimo e di far capire al mister, come ho sempre fatto, fargli capire che ci sono anch'io. Sì, siamo arrivati al punto che ci crediamo, che anche la Coppa è diventata una competizione importante, perché siamo andando avanti, e comunque se mercoledì iniziamo diventa veramente importante, quindi sicuramente è una partita importante, come detto gli altri. Grazie.